Siamo in paura? Marina è avuto. Vai! No, gira! Cosa fa? Cosa fa? Dai! Cosa fa? Sei sentita? No! 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 Il gioco è che ci ha preso nella testa la ragazza, ci ha preso sopra, ci ha il secondo. Ma te è questo? Non ti vittura. 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 Prima è volata. Vabbè, il nostro presidente. Guarda, guarda. Stai, guarda. Stai, guarda. Guarda, guarda. Ma te è perché ci ha preso il calcio in testa. Da chi? Da quello dietro di lei. Non so chi era dietro di lei, ma è caduto sopra di lei sulla testa. Ma io non l'ho capito, c'è un'ambulanza. Ha caduto la podastra? Ha caduto la podastra? Quello dietro di lei, è caduto sulla testa da lei? Ah, all'esterno della famiglia. Ma lei è già c'era un po'. Amore. Ah, lo stacco. Oh, si va. Amore.